Oggi favolosa giornata in Beauty Farm, ci siamo divertite da morire, guardate il video fino in fondo. Ragazzi, allora oggi è tempo di M, sta nevicando, sta cominciando a nevicare, quindi siccome siamo un gruppo di scalmanate, visto che nevica abbiamo pensato di andare in un bel posto. Adesso sono in macchina con due mie amiche, ce n'è una che ha avuto un contrattempo col treno, non arrivava mai più, però è arrivata. E adesso andiamo in Beauty Farm. Vi presento le mie amiche. Ciao, Valentina, Alfia. Ciao, io sto guidando. Lei guida, lei guida. Poi vi farò vedere dove andremo, ma non siamo solo noi tre, siamo in otto. Ciao, a dopo. Ciao, a tutti. 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 Ciao, a tutti.